musica 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 ma ti accumate non lo faccio a sciogare naturale non c'è faticato solamente però lo faccio a sciogare, 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 lo faccio a sciogare ma tu cosa succede? tu che lo fai benissimo io? tu lo faccio a sciogare, ma tu posso a sciogare allora, quello che faccio ogni tanto è un giampecaio e la carentella se no nessuno ti crede, capite che tu ci accorgi quando il virus è emafora non si passa ma tu si fai sotto la macchina, ma tu fosti sciogare fosti lì e chissi sotto la macchina tu tu vuoi sciogare essere, capite che tu non ci pigli ma raccomandiamo, fammi vedere come fai fammi vedere come fai fate la carità, fate la carità e lei che puoi mettere dentro la sciogare ma che te? perché se no veramente non ci pigli che invece con l'occhio freddo è curato qualcosa in mezzo a sciogare in mezzo a sciogare no, sciogare e sciogare sciogare e sciogare che tu fai pietà, capite? tu fai bene fai bene a chi ama bene no, nel secolo fai bene loro diranno i soldi ah ma c'è fai grande che si faccia così per sempre fate la carità fate la carità fate la carità ma c'è fai che te lo piace fate la carità 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 Grazie a tutti.